Buongiorno Buongiorno, stiamo già alla stazione oggi Guardate che bella Nomul qualcosa mi pare Non mi ricordo il mio nome Stiamo cercando di prendere il biglietto del bus Ok Prendete il sito Apparentemente il prezzo è 5.000 e qualcosa Per il biglietto Stai felice? Ma forse non funziona la macchinetta Ah Sono i nostri posticini Ora aspetto alle mie amiche Il problema è che non credo si possa bere o mangiare Ma sarà divertente Ci siamo sedute Siamo partite Non capiamo se stiamo traspedendo tutte le regole Del format Dalla bibido al cibo Ah E' anche il mio Non meca chi Perché oggi è per tutte cose giganti Vabbè, arriveremo Promesso che arriveremo No, questo è troppo carino Guardate questo E anche la polverina dentro Mettimi a fuoco Ok Siamo arrivate Abbiamo preso un taxi E anche il biglietto Abbiamo pagato 9.500 won Credo siano all'incirca 6 euro forse Però guardate che bello Cioè ovviamente non c'è solo il set di Perché Perché non vi l'ho detto forse E qua siamo venuti a vedere Comunque Molto bello Forse è bellissimo perché È mezz'ora Vorrei delle foto Gentilmente Ci usavo Grazie No ragazzi ma è impossibile Comunque Cioè io Io non scherzo quando dico Siamo noi Vai Videoclip perfetto Rapplico 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 Non mi ha vastato E poi Sono un pochimse ansi Proud to save Shout out To find your way Cioè non ci vedi che sono A rainy days life Vabbè oggi va tutto a poggare Sì Sì Ragazzi Non dimenticate di essere profumati Sempre, in ogni situazione Ma poi guarda che bello Con dietro tutte le Oddio Cristina Che paura Ah ci hanno girato questo Bello però Bellissimo Siamo arrivati al palazzo Dove hanno girato Cristina 7 E anche loro Io quando spiego le cose Sì ma non credo Cristina Cristina devo dire se c'è il trono dentro Sì io ho il trono di spade al massimo E' bellissimo E dietro con tutta Eccomi Io mi sento così Come c'è il trono c'è No C'è il trono Geno purtroppo ogni tanto Impazzisce con noi Pensate a stare con tre italiane Però se la cava se la cava Tu sei buona con l'italiano Mie cacca No Me coglioni Me coglioni Me coglioni Dentro è così Bello Qui abbiamo un pentolone Ho fatto una gippa Ok Non so se si può mangiarla Mmm Alghe Succhi Ma che succede Comunque noi arriviamo C'è sempre qualcosa Ma che vi devo dire Che sta succedendo Light plus Cosa fanno Cosa fanno Stanno girando un dramma Ragazzi io voglio i refound Se non posso andare Nella zona del market No ragazzi malissimo Non ci siamo NCS Cioè a parte te lo dovevo dire Se stanno girando qualcosa Sono arrabbiatissima Purtroppo questo ragazzo Molto gentile Per carità Però ci ha detto Che non possiamo Ah Ma li stanno girando Quella era la stradina Apparentemente Vedete che stanno registrando La salva si è sentita così Posso entrare? Vai vai Non c'è nessuno Non so se era per i prigionieri Dice che era per gli animali Prigioniero di Ax Ascapant Io non so più parlare Aiuto Io quando devo entrare In un buco Non capisco che cosa Stia succedendo Ma intanto troviamo dei ragni Eccoci qua Noi e loro Ma la parla Ma la parla di voi Per favore Gentilmente Basta Non mi sento al sicuro Mi sono soccarizzata Animali fantastici Dove trovarli Te lo ricordi quel film? Bello No è adesso una discesa Oh no Attenzione Non cascare Ah lì è dove hanno girato la scena della macchina di Jungia Sì È l'ultimo stasso È l'ultimo stasso Attenzione a non cascare Tu vivi tranquilla Vamo ragno gigante Con quella trovata mia Oddio no Speriamo di no Sono sempre sulle ragnatele Almeno li vedi Ilaria No 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 Questo è uno scherzo Sì Wow Già una ride perché purtroppo è ignara Qui è il pezzo dove fa Pallice in su Pallice in giù Guardate che bello questo Questo è il pezzo dove fa Ma non mi hanno fatto Questa città Arrivo È da Cristina Il blog oggi è Cristina What are you doing here Io ho il pezzetto La me Basta Io rock and love Io ho il pezzetto Noi Wow That's romantic Non è stato è romantico Noi abbiamo il direttore artistico Basta ti prendo No no Deve ripare Buongiorno ami Oggi si torna Con un tempo Un po' Un po' così Anzi un po' me Mi sono svegliata Molto presto oggi Perché sono le 8 Eccoci qua Era da un po' effettivamente Che non mi svegliavo così presto Però devo finire dei lavori Poi devo arrivare In tempo per le 11 A Honde E devo andare al Lime Friendshop Perché devo andare a comprare Il regalo di compleanno Per Rosalba Visto che tra due giorni È appunto il suo compleanno Perché non mi sono adoperata prima Bella domanda Che è passato tutto così In fretta Quindi niente Ci ritroviamo che adesso L'ultimo Dobbiamo fare tutte le cose Quindi questi giorni Preparativi Penso anche una torta Qualcosa Ieri sono andata Sono andata a fare un giro Sono andata da Artbox Che per chi non lo sapesse Dopo vi faccio fare un giro Da Artbox Perché tanto Devo ripassare Appunto a prendere un'altra cosa Non mi viene neanche l'esempio Qualcosa che abbiamo in Italia Perché solitamente Io non vado in questo tipo di negozi Ma letteralmente c'è Tutto Dalla cartoleria A tipo i pupazzetti Le mystery box Le cose per fare i DIY E tipo il Daiso Per la cartoleria Jenna dorme Ovviamente porta chiusa Vuol dire solo una cosa Beata lei direi Io ho detto No domani mi devo svegliare presto Perché devo andare qui Qui vuoi venire All'inizio lei Sì 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 Vengo anch'io E invece poco prima di andare a dormire Mi fa Ma sai che se devi andare troppo presto Mi sa che vai da sola E io Vabbè Jenna non esce Di casa Se non è truccata E pronta E per fare queste cose Lei si sveglia tre ore prima Cioè quindi se devi uscire Alle 10 Lei si sveglia alle 7 Se devi uscire alle 7 Lei si sveglia ai 4 Cioè queste robe qua E io lo sapete Cioè dammi 20 minuti E sono pronta E quindi questo Comunque adesso quindi Lavoro al pc Poi tra l'altro Ieri Sempre appunto Da Ardex Ho preso Le candeline Ho preso una penna Di My Melody Se l'amorò Al come lo voglio chiamare Che Rosalba impazzisce Quindi carina Poi questo Tipo cerchietto Si illumina Con scritto Questa scritta Dovrebbe voler dire Tipo Oggi sono il main character Insomma sono il protagonista E poi devo andare Anche da Daiso Dopo Perché ho tirato fuori Un po' di vestiti Invernali Che ho avuto Al letto E ora sono tutti qua Cioè almeno tipo Le magliettine Questi sono tutte qua Quindi le devo appendere Un po' Già le ho appese Ma appunto Ho finito Le stampelline Che bella sensazione Quella di riuscire a fare Le cose Che vi siete prepissate Dopo essermi svegliata Le nove stamattina No le otto Quando ci siamo triate Neanche mi ricordo più Questo vi dice tutto Sono riuscita a arrivare In tempo Perché mancano Circa otto minuti All'apertura del negozio E poi essere la prima Ad entrare Anche perché ieri Mi ha detto Cristina Che sono uscite Delle cose nuove Della linea dei BT21 Quindi voglio vedere Se trovo anche qualcosina Vado tanto il negozio Letteramente qua Per fortuna Ho fermato L'auto Super 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 vicino Sempre se non vengo investita Da una bici E poi Passo d'artbox Guardate Onde A postura di mattina Quanto cacchio Trafficata Poi costruiscono Perché costruiscono A rotta di pollo Praticamente Cioè questo palazzo Tipo due settimane fa Non c'era Quindi costruisco questo Hanno anche aperto questo E' un fast food Col pollo fritto E voglio troppo provare Perché vedo sempre Un sacco di gente Proveremo Proveremo Oggi è il compagno di Jimin Prima c'era Un bellissimo video lì Che ovviamente Non sono riuscita a riprendere Ora aspetterò Che ve lo riprenderò Però queste sono alcune cose Della linea nuova Delle miei jeans Vediamo se Riusciamo a prenderle a rosso Cioè in ciria Lei ha una preferita Io non mi intendo Di miei jeans purtroppo E dovrò capire Qual è il puccino Della sua preferita Ani mi sembra Si chiami E' un puccino E' un puccino E' un puccino Che carino Questo è un puccino Debra sembra fatta apposta Guardate la fila nuova che ho scritto artro Però 70.000 Ragazzi anche meno Questo è carino Ok prima missione fatta Ho preso questo qui alla fine E adesso ho da vedere dartbox Perché c'erano anche le cose dei new jeans Ma in realtà quello che voglio prenderle io Non c'è esattamente Quindi non so se dovrei osare Questa è una canzone di Jimmy Ma io dico ragazzi Ripeto, questo video lo sarà pieno di Io che vado in posto e trovo le canzoni di BTS Comunque questo è artbox Questo qua nuovo è gigante, bellissimo Guardate, è dentro tutte queste robe Quindi adesso entriamo E vi faccio un po' vedere Sono tutto se vi rendete conto Della quantità di cavolate Sostanzialmente che vende questo posto C'è queste tazze strane Quelle più carine ovviamente Carinissime Però tutti questi mini cittadine La mini riproduzione di Basker Robbins E queste sono cose di po' la collezione Guardate che carine Le mini casette Vorrei provare questa caccia di borsa delle new jeans Se anche lei voleva Che in realtà è uscita tipo Forse vi parlo di quattro mesi fa Qua tutte le cose per i fogli La cartoleria Questi qua sono bellissimi Tipo se vi fate le foto Ai foto Butto vedete Poi li metto di così Ma ce ne sono di Purtroppo carini Bellissimi Se siete pazzi di queste cose Questo per le foto Card Le agende Gli sticker Ragazzi Gli sticker Cioè vi dico Solo tipo Tutto Le mini lavagnette Le wash tape Carine Le valigette Venetti Vabbè Pelluscini Ah questi sono i cose Per stampare Le carte personalizzate Però onestamente Non ho idea Di Cosa ci puoi fare Proprio con questa carta Altrimenti la mia idea Era prenderle Una di queste bamboline Vedete Metterci il cappello Con scritto Happy birthday Che si può fare anche Con la bambolina Quella delle new jeans Vediamo Non lo so Non ho più che fare Sono molto Molto in alto mare Ok L'ho preso Vi posso per vedere Anche cosa Perché tanto Questo video Uscirà di certo Dopo il 15 Quindi assolutamente Va bene Che la prima In me ci riesco A comprare La borsetta Poi c'è la borsetta Purtroppo Non ci sono più che C'è in delle new jeans Ci metterà Quello che l'ho preso A comprare La cittata Nuova Che è questo qua O se lo mette Sulla sua borsa Sono molto 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 Sottisfatta Ora torno Da Genna Così poi Andiamo da Dice insieme E passiamo a Comprare una borsettina Carina Perché Sì c'è questa Di Artbox Però Non lo so Non credo Sia molto carina Per il regalo Quindi ne vorrei una Perfetta Ok Sono anche passata Da Daiso Dovevo prendere Le stampelle Le buste del regalo Ma ovviamente Ho speso 30.000 won Ci sto Ci sto Ci sto Ora torno Verso la mia casa Mi aspetta La mia amica E Amica Non è la mia amica L'amica Ok Cosa ho preso Vabbè Queste cose Già le avete viste E va bene Adesso le impacchetteremo Anche Perché sostanzialmente Mancano Sempre due giorni Comunque Come prima Non è cambiata Allora Da Daiso Ho dovuto comprare Sta busta L'ennesima Però vabbè Tanto ci serve Spesa cose Quindi non me la metto Poi la carta Per raffare i regali Questa Mi servirà a futuro Poi questa è la mia busta Per mettere le cose Era l'unica grande Che potevo utilizzare Non è bellissima Però Questa invece È la bustina per Jen Poi Per l'altro regalo Che le ho preso Ho preso questa scatolina E ci voglio mettere dentro Questo coso Lilla Così almeno Apre più di una cosa Il sapone Per i piatti Il diodorantino Per il frigorifero Perché C'è stato l'aglio Che l'ho buttato Poi questo Sempre per metterglielo Nei regali Perché lei adora I orzetti del cuore Especialmente questo qua Questo per gli armadi Perché l'altro giorno Ho visto un tiktok Di una tizia Che faceva vedere Che gli era cresciuta La muffa nei vestiti Io ho il terrore Ah questo ragazzi Questo è il pentolino Per fare il riso Nel microonde Tipo Se lo devi fare così Pure Per fare che ne so I raviolini Le uova È un pentolino Al vapore Per il microonde Sai che l'ho preso? Ah questo qui È il pennarello Per le macchie Sui vestiti Perché l'altro giorno Mi sono macchiata il pigiama E voglio vedere se si toglie Ricarica del sapone Per le mani Questo è un altro Dei miei spray Da pazza E altre due cose Che però non posso farvi vedere Perché Qualcuno vede questo video Potrebbe avere degli spoiler Quindi Ah ok ok Cute Ok di sottofondo Abbiamo la Telenovela Colombiana Di Jenna Che vergogna Si vergogna Guardate Si compri una cravaccia Ok Comunque Stiamo facendo I pacchettini Questi sono i miei Cattolina Però ci sto mettendo Un po' di scotch Cioè non è bellissimo Però Almeno so che non si apre Ma guardate Tutto in pandano Bellissimo Se avessi la bustina Di quell'arancia Sarbbe stupendo Quella è quella di Jenna Ami Come sempre Con la mia dedica E niente Dico già Ecco i sui soliti Ravolini Ho fatto anche delle letterine GK GK Ora io L'ho 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 proprio Un R T G Z N È successo che Io oggi soffro di narcolessia Mi addormento letteralmente Ogni 20 minuti Editare questo video È stata una tortura Quindi spero L'ho apprezzata ancora di più Penso sia il blog Che comunque è uscito Prima di questo Perché poi Non ho altre clip Qui c'è Ami Che sta mangiando il suo setto E io appunto Sto finendo di lavorare al video Prima c'è stata la diretta Del compleanno di Jimin Perché appunto Oggi è il compleanno di Jimin Devo trovare dei ritmi Un pochino migliori Perché così non ce la faccio Devo essere onesta In più avere sempre Gianna qua a casa Non dico che è una difficoltà Però ovviamente La concentrazione È un po' Calante A volte Però ecco poi Quando magari lei se ne va E riesco a tornare Un pochino più nel mindset Dire Senti Focus Fai questo 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 Appunto lei è uscita È andata a cena con G1 Appena è uscita Io mi sono subito messa Letteralmente il secondo Che è uscita A pulire per terra Perché ripeto Ne approfitto Di questi momenti Dove almeno poi Non le do fastidio Che deve camminare Girare eccetera Tempo che stavo arrivando A pulire davanti alla porta La sento che rientra E dico Ma che vuole questa Non si era messa la giacca E fuori Faceva freddo Ovviamente adesso Comincio a fare freschetto Soprattutto la sera E quindi niente Questo è Sono le 10 Penso che appunto Adesso finirò il video La copertina la faccio Direttamente domani E così porto Ami Faccio la doccia E mi metto a letto Che lei torni O meno Mi troverà a letto Perché ripeto C'è proprio il mal di schiena Mi distrugge Devo assolutamente Comprare uno di quei tavolini Tipo quelli che si mettono Vicino al divano Per stare dritta Perché distrutta In più Ah quando ho fatto La host tour Poi mi sono scordata Di dire questa cosa Tutti mi hanno chiesto Ma non avete un tavolo Da pranzo Non si usa Ma io la dovresti metterlo Qua 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 Qui non si usa E devo essere onesta Non è una cosa Che mi manca Non è una cosa Di cui sento la necessità Come ad esempio Una televisione Quella mi manca Sta cominciando a mancarmi Dopo mesi e mesi Più che altro Perché il computer Ok però ogni tanto Vuoi no Una bella roba Quindi mi farò aiutare A prenderla E anche perché Io non ci capisco niente Delle visore in generale Figuratevi qua Quindi succederà Però il tavolino No Perché noi appunto Mangiamo sedute sul divano O sedute per terra Col tavolino Qua che vedete davanti Poi vabbè Ho steso qua Anche i panni Sempre neri ovviamente Domani andiamo a fare Una cosa fighissima Preparatevi Perché come vi ho detto Stiamo organizzando le cose Per il compleanno di Ross Avevamo un'idea Come fare la sua torta E volevamo commissionarla Appunto Fatta No su misura Come si dice Personalizzata Però purtroppo Non si sa come Questo weekend Ho tutte le pasticcerie Le robe Sono tutte chiuse Tutte che gli scrivevo Nonno no Le prenotazioni dopo il 15 Il compleanno è il 15 Bellissimo Quindi niente Domani andiamo In un posto Vi ricordate quando vi ho portato A fare le cover personalizzate Ecco questo è un cover Per personalizzare Le torte di compleanno Una figata pazzesca Se è carino come cosa Cioè ci torneremo Tipo ogni compleanno Perché Oltre ad essere un'attività È una cosa che puoi fare Insieme a amici Fidanzati Che vi pare E ve la fate voi Insomma Quindi è anche divertente C'è la soddisfazione Quindi andiamo un po' A vedere come funziona Perché dovrebbe essere Molto carino Questo punto video Di TikTok Grazie Che fate sempre I tumori qua Poi dobbiamo prendere Qualcos'altro Che non mi ricordo Gianna mi ha detto Ma ripeto Oggi sto un po' Quindi così E niente appunto Poi ci sarà Il giorno della festa Ci vediamo Direttamente domani Con questa attività Che vi ho appena elencato Praticamente Beh che dire Buongiorno a noi Sta piovendo Ancora Io ho iniziato La terza stagione Di sex education Stavo facendo La mia colazioncina Qua con una barretta Gianna è già uscita Stamattina Perché doveva andare Appunto dal parrucchiere Per accompagnare Il suo fidanzato Io comincerò Adesso per fare La skin care Mi preparerò Farò un tocchetto Leggerino oggi Perché con questo tempo Cioè proprio Già ieri Ho dormito A sufficienza Quindi mi sento Tutta rinco Svampita In più questo tempo Devo dire che non aiuta Tanto devo uscire Dopo pranzo Appunto raggiungere Loro che sono Dal parrucchiere Per andare a fare La cosa della torta Apparentemente Il posto delle torte È qua sopra Dove passiamo Sempre sulla strada Gimuone Si è fatto i capelli nuovi Ragazzi Sta benissimo Ora vabbè Ve lo posso far vedere Ovviamente Però Come cambiano i capelli Cioè anche da uomo Tu dici Vabbè Sono corti In realtà no Io comunque sto diventando velata Ve lo dico Guardate questa parte Perché l'altro giorno Mi sei incastrata nel phon L'ho dovuto distrappare Questo è il risultato Ok Ma mi pare che non ho messo Le scarpe di coppia oggi Eccolo Il mio scioppino Che carino Ok apparentemente Prima si sceglie la size Qua I gusti Credo ci siano Cheesecake Questo cioccolato Medium size E poi c'è quello a cuore Oppure circolare Non lo so Scegliete il corrente Vede la cremina sopra Guardate come la sta facendo Quella della notte Bellissimo Con il viola I won't mind at that Ok Honest The same lilac It's so good E poi bisogna uscire le decorazioni Andiamo a vedere le decorazioni Oh yeah The purse Qui hanno le berline Gli anellini Vabbè Non ci interessano Le scarpine Non morta Vabbè Numeretti Poi tutte le cose Oh Oh so pretty Rose You have to put a rose It's true Qui ci sono le letterine I pacchettini Altre decorazioncine Yeah maybe Oh there's more I'm looking at the white roses maybe Yeah di sui cioccoli Ah ce la sta tagliando adesso Guardate che brava Te la fanno al momento Hanno la base Quella è la formina un po' più piccola Mette la cremina Ok Questa è la nostra tortina Con questo devo fare lo spessore Ok Lei non si fida di noi Quindi appunto il te Dobbiamo prima fare il segno del bordino Ok Suggestione del top bar Yeah This here Yeah Because the bottom Is gonna be Yeah Ok Do you wanna do that? This is easy This is easy No if I mess up She can wipe it And do it again Yeah come on Oh that's happy Yeah No No Ok 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 like that is better Exactly Let it Oh Ok 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 Good Good Non so Mi fido farmi fare Questa è la cosa più facile Dovrebbe essere Do you regret your decision? Noo Can you see that this is like that and this two fingers and one finger Ok ok start over start over start over start over Yeah L'unico L'ultimo che può proprio ridere Perché adesso vi faccio vedere i capelli Non faccio vedere la faccia ma i capelli si Eccolo qua Ed ecco qua il lavoro di Jenna General masterpiece Yeah Yeah Better I'm practicing all the letters Yeah Perfetto È una perfetta Wow Ok I got it I can do that E come mi dico sempre Sentite la canzone Purtroppo non riusciamo a capirci sui colori Lei viene e ci fa vedere il colore che ha creato Noi facciamo più scuro E lei torna Questo è più scuro Ed è uguale a quello di prima Quindi c'è qualche incomprensione Siamo con un coreano Attenzione Cioè quindi non è che dice Sai non si capiscono tra di loro Vedremo Quanto ci metteremo Non abbiamo cronometrato effettivamente Guardate che bravo Verrissima Stiamo scrivendo blood soccer Nel testo della canzone vampire di Olivia Rodrigo Ok Vi è l'unico Ok Vi è l'unico 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 Ok sorry Ok sorry 3 Li?! Quantiarsi So good Guardate 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 ω Porta Ok Certo étant Guardate 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 ogni volta che vedo questo penso che è come un pezzo oh sì, è vero ragazzi, è stato più difficile di quello che pensavo mi abbia dovuto ottenere carpelle, penso, per fare questo pezzo però vabbè dai, non è malissimo questo è il nostro prodotto finito abbiamo messo le roselline perché ovviamente rose le perle, un po' così anche se questa non mi piace particolarmente perché poi qua dobbiamo fare un'altra cosa dobbiamo mettere tutti gli stecchini con le foto che stamperemo dei suoi bias, no ragazzi abbiamo messo una cosa pazzesca siamo tornati a casa la torta è stata portata in salvo l'abbiamo messa qui tanto l'avete già visto il design stiamo tagliando tutte le immagini degli idol le abbiamo trovate tutte con le rose quelle che vedete che alcune hanno le rose e io le ho editate io tipo Suk Min io ho messo una rosa dove sta? qui Mingyu non aveva la rosa io l'ho messa io vabbè, insomma, tutti i suoi preferiti bellissimi, meravigliosi Kim Tiong gigante ovviamente e adesso Jenna sta facendo un lavoro di precisione mi sta ritagliando e poi metteremo lo sfondo buongiorno, stiamo a Tiret, siamo già in metro stiamo cambiando qui sono mia amica i pacchetti la nostra torta la scritta si è un po' aperta però dettagli eccoci qua, stiamo andando in teoria il programma è questo andare a casa di Rosalba lasciare le cose soprattutto la torta e poi andare al posto dove ci dobbiamo incontrare lei dovrebbe già essere fuori casa quindi vabbè, io ovviamente so il pin per ragioni tecniche e quindi entrerò lascerò le cose e via in metro ci siamo messe a costruire il pannello con tutte le foto degli idol che avete visto ieri quindi poi ci basterà soltanto appoggiarlo sopra e niente, la gente ci guardava male forse, un pochino ma noi siamo più simpatiche di tutti loro siamo più creative certo, questa idea non è che è originale nostra perché l'abbiamo vista da un video su TikTok però comunque vuoi mettere metterti a farla, stamparla plastificare cioè, ragazzi, c'è dell'impegno quindi spero che poi lei si tenga questa composizione da qualche parte siamo entrate stiamo gonfiando i palloncini Rosalba è solo lì che ci aspetta da mezz'ora ma dettagli intanto dobbiamo preparare questo assetto particolare io non posso entrare perché prima che mi tolgo queste scarpe ci metto sei ore e mezza quindi io ho gonfiato i palloncini e Jenna adesso li sta pulizionando guardate così stiamo freggiata di oggi sì, io quando sono vera Wiggle 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 oh, questo è il mio ma questa è bellissima questa cosa guardate, mi andrà a prendere guardate che belle d'ortine ok, questo deve essere il mio vediamo quando prenderanno il mio amarezzo e la sera ho fatto è vero, è vero, è vero torta di figlio e chi? figa 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 questa è che sto presa questa è what do you do? ah, green juice oh, yeah cheers all green all green e io purtroppo ho il ciclo quindi mi dica non posso essere Wiggle 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 ocha stavo muorendo raba l'abbiamo fatta e per questo li abbiamo fatta tanti aspetta, poi devi guardare bene ahahah def astiti con la rossa sì raga questa è stata la più bella del mondo Cosa dice oggi il mio giorno speciale? Oggi sono la protagonista Oggi sono il main character Non lo so, me l'ha tradotto il ragazzo La smacchia tu Dai vi prego la valsa Bellissima Non lo posso Non si può 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 Non si è macchiata purtroppo Purtroppo sarà il blu per il resto della mia No, no, no Ti prego non questo Ho corso ma ne valsi la pena Non correrò mai più Non correrò mai Non correrò mai Oh my god Non, per 10 anni magari No ragazzi, avrò perso un grammo Sì, la borsetta di Jenna Perché non la vorrei un po' a vedere La borsetta di Jenna Non so che... Ma sì, tanto deve rimanere Wow Tu vuoi usare la borsetta? No No, l'ultima Prima la borsetta di Jenna Ok La tua sessione creativa Sì Primo un taccuino Per me? Degli orsetti del cuore Ovviamente Sì, almeno Puoi scrivere i tuoi pensieri Eccoci qua Attenta che... Ecco, potresti perdere il tappo Sì, no, ma non è rotta È proprio che ogni tanto si perde A volte perdi la testa Come dire Quando ti perdisci la mente Non puoi capire Questa era troppo carina E mi immagini Vediamo, quale puoi prendere prima Questo? Prima quello grande, ok Let's go Let's go Let's go Let's go Non vanno più al cavolo di negozio Perché sono dautissimo Troppo le più jeans A quanto pare Però so che questo ti piacerà Non ti preoccupare Io l'ho mandato Sì, sì Lo andremo a prendere Nooo È troppo carino Succesa Degli, no We have to take it finally, Laila Grazie